la seconda parte servirà pure aspetta ti hanno ucciso il cavallo cose come sei scesa fammi capire ma perchè sai sono ignorante una donna tanto brutta comunque sono morto soltanto due volte io dobbiamo andare la giù perchè la giù non so perchè si ha fermato ma bastardo i miei amichetti sono importanti anche io e tu vuoi soltanto la vendetta lì è però ma forse sono stupi migliorno forse st ma quando fai? beh in teoria vi hanno risparmiati eh ok intanto ce la facciamo la potevo fare domo la potevo fare potenzialmente mischia per visualizzare posso potenziarlo troppo che servo delle forbici non posso farlo imparare se proprio l'ame e scotch non posso farlo ma qua c'è il sangue da dove? su ca non mi tocchi più si porco giuda mi ha fatto caga in mano a me madonna raga non me lo aspettavo oddio che cagata micidiale mi so piato lascia qua sarebbe buone in questi casi eh madonna gli infarti sembra che non ho preso l'infarto ma tutt'altro oh altre medicine e alcol vado si che è lì certo che è un'alcolizzata eh poi questo qua è 40 e questo è 60 incrementa la tua energia vabbè niente raga colpi di pistola che cos'è? una pistola? equipaggia? va bene che cosa fa? non ho capito infiamma di un'arma corta per visualizzare non è vero quindi possiamo fare veloce che figo possiamo fare veloce quindi raga adesso la vita la nostra vita è molto avvantaggiata adesso ok vabbè adesso qua ci stare alla te ne hai premuto 3 anni quadrato bom 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 voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri innanzitutto te lo chiederai perché l'hanno fatto si c'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joy altra carta? oh quante carta? è impossibile che ti abbia nascosto l'altra volta le cuffie decisamente non amava parlare di sé già non gli è mai piaciuto ma forse posso sapere qualcosa su chi frequentava Joy non lo posso fare ho questa ma di che ci sono al massimo secondo me si è abbastanza bene cure, monotope, un po' tutto forse leggermente troppo OP però va bene la raga è il ben di dio qui e non capisco perché Stepney non lutta mai cioè guardate quanta roba ho io non ci sono infinite in pratica mi sono avanzate pure altre di pistola già posso veramente mi posso buttare a terra al volo che bello ma se mi stendo così non mi vedono più invece se mi si bagga la mano non mi ricordo dove dobbiamo andare fotografia di Lin la rimbambita messaggio di Lin la rimbambita mappa di Schiattolo dobbiamo girarla quindi è un pochino più complicata questa presumo che stanno andando un pochino la zonza non vedo più i palazzi qua ci siamo già stati no raga un labirinto un labirinto questo ho capito dove ok sono andato ai palazzi ok adesso ci vorrebbe il cavallo ecco il cavallo c'è quando non c'è quando serve Gesù non possiamo passare vero? esatto possiamo scavolcare non possiamo scavolcare la gigantesca la mazza forse è quella più debole di sto gioco qua possiamo entrare attenzione un uomo alcune di queste cose cos'è? non lo so un'altra carta collezione basta raga basta cioè mi sto mattendo a farci trovarla sono un collezionista adesso mi spiace raga sono diventato uno di loro un collezionista posso entrare là dentro non presumo potremmo salire dai su dobbiamo scavalcare tanto io lo so che dobbiamo scavalcare ah ecco qua infatti che stai facendo? hai bloccato ehi prova a spostarlo dal marciapieco ok grande dina tu si che son genio e ora che vuoi farci guarda lo voglio mettere te lo voglio mettere eh voglio metterlo qua che c'è mi sembra giusto guarda da da ok vediamo ok ah questa volta non lutiamo tantissimo eh non stiamo qua a tre anni ah cucciuta un attimo suono un attimo suono beh allora smetti di parlare di cibo ah non lo vedete vieni con me vai ti guardo alle spalle vai vai con lui vai con lui amico mio vai vai ok va sopra ci lascia stare a quanto pare ah grande oh attenzione dina dina la mirone dammelo questo è mio grazie this little boy you are gay beccatelo in faccia un mattone ok ok niente no non urlare no quando la gente cerca di dormire ok mi sa che sono finiti eh a quanto pare non ci sono altre persone raga disintegrati eh niente no non no si no stiamo affaitando per niente mi auguro di no no mi auguro di no mi auguro di no solo quello che possiamo fare Merkit, lascia stare Merkit intanto la saluta la ricopriamo durante il tempo ed è buona sta cosa qua raga è buona possiamo svuuppare le armi velocemente qua dove è morto il tizio un zio di fucilone, grazie vediamo, era già carico per intanto due qualche in più possiamo stare qua facciamo gli uffami come hanno fatto loro non è vero, vai scendiamo ah questa si che è una cosa che ha sbattuto e siamo bloccati io invece non vedo più i palazzi, ecco li là tutto deletto, vai persone e non mi sembrano persone tanto contente a starmi cosa hai detto? cosa hai detto? cosa hai detto? perlustriamo l'area occhio alle iene c'è 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 Chiudi la bocca e io quando lo dico non c'è mai munizioni che sfigato dai vieni pure tu qua facciamo il duetto di sfigati morti dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua grandissima grandissima vieni qui vieni qui vieni qui ah che dici no che dici tu almeno portai munizioni e pistola dimmi sì dai che tutti questi pistolino oggi che è voi svuoppiamo infestata di brutte persone sicuro ci sarà l'altra gente come la fa? la bastarmi andate a vedere i vostri amichetti morti vai dai 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 qui dai qui dai qui vuoi maneggiare esplosivi a buio? se hai tante regole fai da sotto tanto un pocchio di munizioni controllo allora le potremmo se qua sono munizioni di questo qua ma ce l'ho al massimo allora dov'è l'ultimo? ah non c'è l'ultimo ultimo non c'è l'ultimo non c'è l'ultimo sono la non c'è solo nascosto prendi i snagli ma che si adesso mi sono ricordato che non so ma quanto pare più di due non aspetta che riesco a colpire il palco ragazzi oddio ragazzi scusate se sto zitto però è più impegnativa di quello che pensate sappiatelo sono morti non ho detto tipo è finita sono tutti morti no non ho detto quindi ci sarà per forza qualcuno forse in quell'edificio controlliamo non è vero stanno laggiù a quanto pare facciamoli venire qui si questa volta voglio un pochino azzardare aspetta rischio un pochino rischio 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 non torno vedo che succede fa cavolare guardare le spalle aspetta guardare le spalle quindi cioè le spalle quindi lui ha le spalle scoperte in pochavolare ok non c'è niente sicuro sicuro non c'è niente nooo non ti spostate muorto bastardi non ci sapete che vi dico il cazzo vediamo dove sono ok non so allora io la prendo di qua bastarda brutto schifoso ok dammi sto battone battone no ma questa volta usiamo non me ne che dai dobbiamo superare il muro del presidio gli edifici sono dall'altra parte va bene apriamo forse ho quasi qualcosa a parte munizioni non ci credo oddio ragazzi sono al settimo cielo quanta roba ok che possiamo creare questo o questo allora quanta ce ne abbiamo ancora due io direi di crearci il medikit che rifornirsi il medikit è sempre importante quindi se non c'è il medikit no non possiamo aprire cosa ma qua munizioni al massimo c'è la medikit qua ancora tutte e due io non la sto usando mai questa pistolone perché quanto vedo le munizioni sono molto rare cioè non rarissime per dirvi no no intanto la sua la loro probabilità ce l'hanno eh sto palazzo mi sa che avevano già adottato vero si si avevano già adottato quindi qua è dove sono stati asassinati praticamente tutti qua se no saliamo quindi aspettate quindi le cose sono un pochino qua travi dentro no fuck you bastano grande questo momento ha fatto più di me mi sa che lui ci fa colpi di fucile no mi sa che ho sti colpi di fucile non si trovano sono l'aria quanto pare vabbè raga questa volta ho utilizzato un pochino eh perché posso cambiare ok vabbè non capisco utilità però vabbè potremmo scendere oh quanto pare non possiamo entrare non possiamo entrare no madonna fatemi entrare ho soffrito all'inferno vabbè raga ehm niente io chiuderei un attimo qua il video abbiamo eh infatti ho già capito dove si rale quindi va bene ciao ciao